Una telecamera che mi hanno un pochino imparato quel poco che mi può servire per me con tutta l'attrezzatura per incidere queste videocassette perché è più di una. Questa sera è una ma dopo spiegherò a mano a mano. Certi amici sempre devo ringraziarli, due fratelli che stanno, sono del mestiere tecnici televisivo, giù a case bruciate volevo dire, qui a Perugia, qui a pochi chilometri, due o tre chilometri. Allora ecco la presentazione mia, sono Gorini, tutti mi conoscono, è vero, uno metto qualsiasi. Grazie. 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 Grazie.